Nell'anno in cui si celebra il 150esimo dell'unità, l'Italia deve fare i conti con un processo che di fatto allontana a grandi passi il nord dal sud. Un processo che non è dovuto solamente a ragioni economiche, ma dipende in larga misura da precise logiche politiche e culturali. La vecchia questione meridionale di cui non si parla più è in realtà una questione nazionale, cioè, per dirla con Gianfranco Viesti, se il sud non funziona è perché tutto il paese non funziona. Al sud stiamo facendo le politiche giuste, ma riusciamo a farle con grandi difficoltà, soprattutto con grande lentezza e quindi i cittadini non si accorgono del cambiamento. Per fare un'opera ci vogliono 10 anni, finché entra in funzione il suo effetto per i cittadini e per le imprese è molto dilatato del tempo. L'economista pugliese, già assessore nella passata legislatura regionale, ha presentato a Bari i risultati di una ricerca sugli effetti delle politiche di sviluppo regionale in Italia negli ultimi 20 anni, in un seminario organizzato dalla CGL Puglia e dall'IRES. Nel corso di questi ultimi anni, sul mezzogiorno, c'è stato un disimpegno molto evidente da parte del Governo nazionale, non c'è una politica industriale, sono stati azzerati tutti gli incentivi per le imprese, in funzione appunto della crescita dell'occupazione. Non ci sono interventi per le infrastrutture, quelle più importanti, pensiamo ai porti, le ferrovie, la viabilità. È come se lo Stato avesse fatto un passo indietro. Serve un miracolo? No, serve la politica, cioè serve che i cittadini si rendano conto che in questi mesi si sta decidendo il loro futuro tra 10 e 20 anni. E poi serve organizzare la capacità collettiva di discutere di questi grandi problemi.